Arrivano grandi novità da amici di Maria De Filippi. Tanti cambiamenti previsti per questo autunno. Cosa succederà? Ecco tutto quello che sappiamo al riguardo. Grandi notizie da amici di Maria De Filippi, per questo autunno. E, in arrivo un nuovo programma dedicato a degli approfondimenti proprio sullo storico talent show della bionda conduttrice. La notizia viene riportata anche da Il Fatto Quotidiano e vede le partecipazioni di Silvia Toffanin. Ma cosa è nel dettaglio? Di che tratterà? Continua a leggere l'articolo per avere tutte le informazioni al riguardo, e non perdere le novità a proposito della nuova stagione di canale 5, la rete ammiraglia della Mediaset. Amici cambia volto. Ecco cosa accadrà. Due serate extra previste per questo autunno. Amici, Silvia Toffanin alla conduzione. Amici cambia volto. Ecco cosa accadrà. Ne avevamo già parlato. Si vociferava l'arrivo, per questo autunno, di un nuovo format per quanto riguarda Amici di Maria De Filippi. Lo storico programma in onda sul canale del Biscione ha subito già alcuni cambiamenti, dal nome, originariamente, saranno famosi, alle discipline. All'inizio, infatti, oltre alla danza e al canto c'era anche la classe di recitazione. Ebbene, i fan storici possono stare tranquilli. La novità non prevede un cambiamento del programma in sé, ma l'aggiunta di alcune serate speciali, degli extra insomma. Due serate extra previste per questo autunno. Come riporta anche il Fatto Quotidiano, per l'autunno 2024 sono previste due serate speciali dedicate alla musica che vedranno una sorta di Fusione, tra Amici e Verissimo. Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato di volerne realizzare addirittura tre, quindi potrebbe aggiungersene una. In queste serate, in onda su Canale 5 in prima serata, vedremo le esibizioni di alcuni ex allievi di canto della scuola. Quindi ci si aspetta il grande ritorno di volti famosi come Angelina Mango, Anna Lina, Emma e molti altri. Amici, Silvia Toffanin alla conduzione. Un'altra novità, che era stata già preannunciata, è il fatto che alla conduzione non troveremo la storica, Queen, Maria De Filippi. La bionda conduttrice lascerà il posto a Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo. La De Filippi, però, sarà parte attiva del progetto. Sta infatti decidendo il format proprio insieme alla Toffanin. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Berlusconi avrebbe dichiarato a FQ Magazine che il programma andrà in onda da Roma. Non resta che attendere, con trepidazione, l'arrivo di questo autunno.